Salve a tutti, buon tutto. Con questo video voglio essere chiara e netta dicendo che quando io spiego del network marketing in un video precedente a questo lo spiego in modo semplice, ma da disoccupata, disabile lo spiego perché se andate a vedere il mio profilo di facebook, le informazioni del profilo vi dico, vedete tutti i lavori che ho fatto, di tirocini, di tirocini, borse lavoro io non ho fatto, non ho avuto mai un lavoro fisso, non ho avuto mai un contratto di lavoro l'unica cosa di contratti di lavoro ho avuto, ho Avon e Snap solo che se voi non mi fate guadagnare perché non mi comprate io non guadagno niente, infatti ho lasciato un po' in stand by questi due lavori perché intanto non mi comprate niente, c'è il link sul mio profilo non andate a cliccare, non vi registrate come clienti io non guadagno niente, perché se io dovessi lavorare per Avon e Snap io ho bisogno che voi comprate, è questo è io non cerco consulenti da fare entrare sotto di me non cerco questo per il momento, perché per me è troppo difficile cercare consulenti per me è più facile promuovere il link dello shop sia di Snap che di Avon, però lo trovate nel mio profilo tutti e due link, lo trovate nel mio profilo come altri link di altri siti dove ci sono dentro solo che le persone mi scrivete in privato cosa che io non amo, scrivere in privato dovete scrivermi per forza in pubblico e non dovete limitarvi solo a un post, a un video che posto dovete andare sul mio canale youtube valentina ripanti 85 38 ma se avete nome e cognome anno di nascita età sul profilo sulla chiocciolina e foto del proprio volto sul profilo e sotto la chiocciolina questi dati perché sennò io non vi accetto, vi nascondo vi nascondo dal mio canale perché io voglio circondarmi di persone veritiere perché se non ho le persone veritiere io non mi trovo bene, non mi sento a mio agio a parlare con tutte le persone perché non riesco a ricordarmi i vostri nickname non riesco a ricordarmi i vostri profili cioè non posso ricordarmi tutto io nella vita io sono una disabile cognitiva io ho avuto l'epilessia da piccola dovete capire questo andatevi a informare sull'epilessia su google o da qualche medico ecco cos'è? ecco rendetevi conto rendetevi conto eh? e non ho avuto solo l'epilessia però l'epilessia è quella maggiore che mi comporta dimenticarmi le cose ecco ho avuto anche laryngospasmo e insomma adesso soffro di problemi di stomaco e di depressione di ansia, attacchi di panico quindi anche se può essere anche tutto collegato queste cose all'epilessia però insomma non sono nata proprio bene ecco quando sono nata non ho avuto problemi anche con il latte perché non ho preso il latte da mia madre ecco quindi ho avuto diverse problematiche nella vita e ce l'ho ancora e poi se vedete le informazioni di mio profilo di facebook dico anche che titolo di studio c'ho e i corsi i vari corsi che ho fatto nella mia vita io non ho il diploma di maturità ve lo dico non ho la laurea ecco io parlo da semplice il diploma di qualifica di 3 anni di superiore ecco l'attestato ecco che per me vale oro quello attestato vale oro per me non è cartaccia perché come vedete quando faccio i miei video che spiego dettagliatamente le cose qualcuno mi capisce qualcuno no ecco però ci sono quelli che mi capiscono che poi a volte mi scrivono in privato quando non mi devono scrivere in privato non capiscono questo ecco perché io non amo le chat le chat per me sono monotone non è parlare con più persone io devo arrivare a tante persone nella vita tante persone devo arrivare nelle menti di tante persone al cuore di tante persone non mi devo limitare a una sola persona alla volta e soprattutto io vado a schedare tutti i profili perché dopo il cyberbullismo e bullismo che ho subito nella mia vita ecco non mi fido tanto ecco di certe persone perché certe persone si sono spacciate per me ecco nei vari social che ho ecco ecco qua quindi e poi mi hanno anche rubato delle pagine su facebook e quindi insomma e quindi io creo dei gruppi di guadagno se volete lavorare sotto di me ci sono anche delle applicazioni perché io lavoro con delle applicazioni che non sono sviluppatrici di queste applicazioni ma sono ref che vuol dire ref secondo voi ref vuol dire che sono faccio parte della rete di questo sviluppatore cioè una volta che ho installato la app che l'ho scaricata l'ho installata mi sono registrata sotto questo sviluppatore e io ho sotto qualche persona che l'ha che si è registrato sotto questo sviluppatore e allora ecco come funziona per me in network marketing che non è fatto solo di vendere i prodotti online attraverso lo shop di un'azienda non è fatto solo così è fatto anche di applicazioni senza investimento di soldi ecco perché per esempio stasera una cercava lavoro ma non poteva comprare i prodotti ecco beh e non voleva farsi vedere beh un modo per lavorare online nelle vendite è proprio lo shop di Avon e di Snap cioè basta che le persone ci cliccano sullo shop sul link dello shop e si registrano e diventano clienti non serve metterci la faccia ecco perché metti lo shop il link dello shop metti e la gente ci clicca come per testo e va a registrarsi a comprare ecco e i consulenti guadagnano perché si guadagna sulle ordinazioni ma non serve investire soldi per i lavori di rappresentanza perché non sono più come una volta ecco non sono più come una volta ecco però non serve per forza comprare un set di prodotti e farlo vedere online ecco quindi a meno per me per me perché non tutti hanno la possibilità di comprare le cose e provarle e farle vedere e non esiste lo shop se no a che serve lo shop e pubblicizzare lo shop se pubblicizzate quel prodotto e poi e poi lo comprate voi e poi fate guadagnare l'azienda se lo comprate voi i consulenti fate guadagnare l'azienda non ci guadagnate voi cioè ci guadagnate lo stesso perché lo fate attraverso il vostro shop ma è l'azienda che ci guadagna di più ma voi se non raggiungete una totta e soglia di ordinazioni non ci guadagnate niente però quindi dovete stare dovete stare attento a tutti i post che metto poi su youtube io metto tutto dettagliatamente sia su instagram sia su youtube c'è scritto tutto di me su facebook tutto vedete tutte le informazioni quindi se volete sapere di me è tutto in pubblico io non temo niente mi piace condividere tutto in pubblico ecco mi piace mostrarmi ecco come sono io sono così nella vita reale di un social e nella vita reale dal vivo ecco non faccio differenza tra virtuale e reale non esiste per me è indifferente è uguale è uguale il reale il reale social il reale di vita quotidiana io sono sempre qua sola con i miei genitori ecco vivo a carico loro sono disabile e parziale quindi non posso permettermi neanche di vivere da sola che vogliamo fare? cosa vogliamo dire? insomma ecco perché mi voglio circondare di persone serie per questo motivo perché io sono una che condivido tutto in pubblico e non temo nessuno però temo quelle persone che se infischiano delle mie sofferenze della vita e si spacciano per me ecco e mi danno fastidio perché dopo le cose che io condivido dove le voglio condividere io e sono io dopo la gente non crede a me che sono veritiera e crede a quelle persone che si nascondono dietro uno schermo spacciandosi per me e a me non va bene sta cosa non va bene ecco ciao a tutti